Come amministrazione andiamo a prepararci per la celebrazione del 12 di novembre. 18 anni fa, il 12 novembre del 2003, un terribile attacco terroristico ad una base italiana dei carabinieri a Nassiria provocò la morte di 28 persone, tra le quali 19 italiani, alcuni appartenenti alle brigate degli autieri, dei carabinieri, della brigata Sassari e alcuni civili anche. Come amministrazione abbiamo accolto favorevolmente una proposta che è partita dal basso ed è partita dagli autieri del nostro territorio di preparare una targa commemorativa che quindi nei prossimi anni sia a disposizione di tutta la cittadinanza, proprio per ricordare queste persone e questo terribile incidente. La targa verrà posta nella sede della protezione civile che è anche sede proprio delle forze d'arma del nostro territorio. Vi aspettiamo. Ricordo che verranno rispettate le normative Covid e quindi sarà una celebrazione in forma statica con le distanze di sicurezza e le mascherine.